Naruto mostra la sua nuova forza Kawaki raggiunge il campo di battaglia Boruto risveglia la sua abilità oculare Lo commenti anche tu Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul nostro canale per il video commenta al capitolo 52 del manga di Boruto Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video Cosa importantissima ricordati di seguirci anche su Instagram Questo capitolo è particolare È particolare perché già su Manga Plus possiamo vedere nella cover del capitolo che manca il nome di Ukiyo Kodachi Kodachi ci lascia quindi non partecipa più alla realizzazione del manga di Boruto Ma abbiamo Masashi Kishimoto come supervisore e come creatore E ad occuparsi dei disegni rimane comunque Miku Eikemoto Kishimoto dunque è tornato e lo fa in un momento molto particolare Perché Naruto mostra una nuova abilità Una nuova abilità che forse lo porterà alla morte Quindi ci chiediamo Kishimoto è tornato per ammazzare Naruto? È tornato per occuparsi della sua scomparsa? Chi meglio di lui potrebbe gestire una cosa del genere? La direzione del manga sembra essere proprio questa Sembra voler ammazzare Naruto Abbiamo questa nuova abilità che funziona come una fusione nucleare Con tanto di spiegazione sul sole Naruto e Kurama hanno attuato questa tecnica E da questa tecnica non si può sopravvivere L'energia sprigionata è altissima, potentissima Ma va a consumare interamente tutta l'energia Quindi arrivato al capolinea Naruto non può più vivere Ma sarà davvero questa l'intenzione di Kishimoto? Al momento vuole farci credere questo per poi salvare miracolosamente Naruto? In ogni caso non bisogna dimenticare l'inizio del manga di Boruto Il primo capitolo abbiamo il prologo Abbiamo Kawaki contro Boruto E Kawaki dice qualcosa di interessante a Boruto Dice qualcosa del tipo ti spedirò dove si trova il settimo Quindi si sapeva sin dall'inizio che prima o poi Naruto si sarebbe dovuto allontanare dal manga O per via della morte O per via di una circostanza che gli impediva di essere presente Ma in ogni caso grazie alle parole di Kawaki all'inizio del manga Sapevamo che prima o poi sarebbe successo qualcosa a Naruto Ora dobbiamo capire solamente se si tratta di una fine temporanea o di una fine definitiva O se alla fine di tutto questo magari non scompare proprio E Masashi Kishimoto visto che adesso è di nuovo creator della serie Inizia di nuovo a trollarci così come si divertiva a fare durante la serializzazione di Naruto Perché non ci dimentichiamo diversi troll che ha fatto Masashi Kishimoto sul Naruto Quindi ecco adesso è tornato e magari ci trolla tutti Ma nel momento in cui Naruto dovesse allontanarsi comunque da quelle che sono le vicende della serie di Boruto Questo potrebbe far sì comunque che la nuova generazione abbia più visibilità La nuova generazione possa un attimino concentrarsi su risolvere i problemi e i conflitti Che stanno proprio capitando in questa nuova opera dedicata alla nuova generazione appunto Ci siamo ritrovati più volte a sostenere questo Fino a quando sarà presente Naruto E' difficile vedere Boruto riuscire a superare il padre Soprattutto perché è piccolo e comunque Naruto sappiamo che è Naruto Sappiamo che il livello di potenza è giunto Naruto Sappiamo che è Lokaige E' difficile vedere la nuova generazione riuscire a superare Lokaige E soprattutto con Naruto presente ci aspettiamo sempre Essendo che sappiamo che lui è più forte Che sarà lui a risolvere i problemi più grandi Non ci aspettiamo che se sono presenti sia Naruto che Boruto A salvare la situazione Boruto Ma logicamente ti aspetti che sia Naruto Quindi fino a quando ci sarà lui presente Boruto non potrà avere la possibilità di crescere a livello di potenza Ma così come Boruto così come tutti gli altri personaggi Quindi per far sì che la nuova generazione possa raggiungere i livelli più alti E possa riuscire a cavarsela da sola Si deve un attimino mettere da parte Naruto Che questo possa accadere con una morte O per un'assenza per via di una qualsiasi motivazione Tipo che ne so che Naruto viene imprigionato in qualche dimensione O qualcosa del genere E' necessario che questo accada affinché si possa un attimino il manga sbloccare Ora però nonostante si stia parlando di morte di Naruto E' difficile riuscire a digerire un colpo del genere Perché ragazzi Naruto è sempre il protagonista della serie precedente Naruto è il protagonista E' per lui che è nata questa serie E vederlo morire ovviamente non farà piacere a nessuno Non farà piacere a nessun fan Una scelta del genere sarebbe molto coraggiosa E soprattutto molto delicata Per cui secondo noi si potrebbe optare per una condizione Che prevede comunque l'allontanamento di Naruto Per un ritorno magari con qualche metodo Che solo Masashi Kishimoto può darci E fa ritornare così il nostro settimo Kage di nuovo in scena Ma l'allontanamento di Naruto al momento comunque E' di fondamentale importanza Se Naruto venisse allontanato Possibilmente la missione di Boruto diventerà quella di riportare il padre Un po' come Naruto quando voleva riportare Sasuke Però in questo caso sarebbe diverso Perché abbiamo Boruto che all'inizio del manga detestava il padre E si anche Naruto detestava Sasuke all'inizio del manga Cioè non che detestava il padre Nel senso che comunque lo infastidiva come si poggeva nei suoi confronti Perché non gli dava le giuste attenzioni che si meritava Se Boruto si trovasse nella condizione di perdere realmente il padre Potremmo vedere un Boruto che comincia a capire il dolore Che provava Naruto quando aveva la sua età Ovvero non avere un padre E quindi vedere Boruto come reagirà all'assenza di Naruto Una cosa è certa comunque Senza la presenza del padre la storia di Boruto inizia comunque a diventare autonoma Non dipenderà così dalla serie precedente Ma avrà un percorso tutto suo Però come dicevo prima è una scelta delicata Perché da una parte si potrebbe far crescere il manga di Boruto Ma dall'altra potrebbe portare alcuni lettori A schifare totalmente la serie Perché dicono cavolo Hanno avuto il coraggio con Boruto di ammazzarmi Naruto Boruto è una serie di m***a Io non la seguo più perché è morto Naruto Potrebbe esserci anche questo risvolto Nell'ottica dei fan, dei lettori comunque della serie di Boruto C'è sempre quell'idea che Naruto rimane la serie principale Quindi ad un livello maggiore e superiore rispetto alle serie di Boruto Anche se la serie di Boruto è perfettamente il sequel della serie precedente Però comunque teniamo sempre, da fan teniamo sempre presente Che Naruto è come se fosse appunto una sorta di serie principale Con uno spin off dedicato alla nuova generazione Totalmente sbagliato perché comunque Boruto è ufficialmente il sequel dell'opera di Naruto E secondo noi è proprio per questo motivo che comunque Kishimoto ritorna in questa serie Anche per cercare di fare le giuste mosse Di giocarsi per il meglio quello che è il futuro dell'universo da lui creato E non possiamo far altro che notare Qui cadiamo un pochettino sullo scherzo Che in questa serializzazione di V-Jump Proprio in questo numero Secondo noi Ikemoto e Toyotaro si sono un attimino confusi sulla storia che stanno disegnando Sì perché da una parte in Dragon Ball Super abbiamo avuto Goku Che molti hanno definito una sorta di Susanoo Perché abbiamo visto in Dragon Ball Super Goku grazie alla sua energia Evocare una sorta di forma gigante di se stesso Quindi molti hanno definito questo Goku una sorta di Susanoo Quindi un riferimento molto evidente preso proprio dal mondo di Naruto Mentre all'interno del manga di Boruto abbiamo trovato degli elementi tipici di Dragon Ball Abbiamo Naruto che si trasforma Che raggiunge questa potenza davvero molto grande rispetto a come era prima Abbiamo Naruto che quando si muove sembra essere Goku ultraistinto Schiva gli attacchi di Shiki E' molto veloce E abbiamo pure Sasuke che fa la parte di piccolo Perché lo guarda e dice non riesco a seguire i suoi movimenti E' veramente velocissimo Ragazzi ci voleva solamente che Sasuke dicesse Ha un chakra potentissimo E io chiudevo tutto Non leggevo più niente Non possiamo quindi evitare di notare che i giapponesi Questo mese si sono ritrovati con un numero di P-Jump Con due opere diverse Che però si citano l'un l'altra Tutto procede velocemente Non diciamo ragazzi che non sia stato bello Perché comunque si vedeva no? La velocità degli attacchi Le schivate Questa ansia Questa hype Perché comunque ad ogni colpo che incassava i Shiki da parte di Naruto I Shiki perdeva minuti della sua preziosa vita Quindi Naruto si comporta come un lottatore di box Deve attraverso i pugni vincere a punti Come se fosse appunto un round di box Non importa finirlo con un colpo Mandarlo KO Importa far incassare al nemico Quanti più colpi possibili Per far risucchiare così Le ultime risorse di chakra Che ha i Shiki In questo Naruto ci riesce Abbiamo i Shiki che è quasi alla fine Abbiamo un Naruto che anche Sta per scomparire Perché con questa fusione nucleare Sia Naruto che Kurama Stanno accusando dei colpi terribili E quindi la sua energia si prosciugherà Fino ad arrivare a zero Fino ad arrivare alla morte E questo che il manga ci dice E questo che dobbiamo credere fino ad oggi Certo Magari volevamo qualche tecnica più spettacolare Magari volevamo un combattimento ancora più avvincente Ma ricordiamoci comunque che è una pubblicazione mensile Doversi fermare per due o tre capitoli su uno scontro Significherebbe che per tre mesi Noi restiamo fermi in questo scontro In questo combattimento Poi passiamo da un troppo veloce Ad un troppo lento Magari con l'anime Quando comunque gli episodi arriveranno a questa scena Ci gusteremo qualche creazione originale Da parte dell'anime Che un attimino amplierà Quello che è lo scontro tra i Shiki e Naruto Per il momento ci accontentiamo Di come sia andato questo scontro Fino ad ora Perché comunque è stato molto veloce Molto bello E decisamente pieno di hype L'arrivo di Kawaki invece catapultato così all'improvviso Sul campo di battaglia Può sembrare un po' forzato A voi è sembrato forzato? Sinceramente con una prima lettura Può esserlo Può sembrarlo Però se ci riflettiamo bene Analizziamo la situazione Possiamo vedere che l'autore questa cosa Se l'è gestita bene Perché il braccio Kawaki lo ha perso proprio in questa saga E adesso con questo capitolo capiamo Perché c'è stata questa scelta narrativa Di far perdere il braccio a Kawaki Per avere appunto la scusa di catapultarlo Poi in questo preciso momento All'interno dello scontro Perché abbiamo visto Kawaki perdere il braccio Durante lo scontro con Delta Abbiamo visto Naruto Grazie a una protesi E il suo chakra Riuscire a ridargli il braccio E adesso grazie a questo suo chakra Ishiki riesce a prendere Kawaki Così all'improvviso E a riportarlo qui Sì Se non ci fosse stata tutta questa cosa Di aver visto Kawaki Nel momento in cui ha perso il braccio Di aver visto Naruto Quando gli donava la protesi Sì avremmo pensato Sì è forzato Non so come se ne devono uscire di questa cosa L'ho catapultiamo nello scontro Ma siccome c'è stato tutto questo sviluppo Man mano con i capitoli che sono passati Si può capire che comunque l'idea era questa Kodachi ha iniziato questa cosa E Kishimoto comunque l'ha ripresa in questo momento Sapendo che doveva far giungere Kawaki In questo campo di battaglia Utilizzando questo stratagemma Bisogna però ricordare una cosa ragazzi Che comunque nel primo capitolo di Boruto Kawaki ha karma Quindi si sapeva che Ishiki Doveva di nuovo impiantare karma in Kawaki Quindi essendo che la prima scena del manga È ambientata nel futuro Già sappiamo come andranno le cose Ishiki riuscirà a mettere karma su Kawaki Kawaki sopravviverà Boruto pure Non sappiamo soltanto che fine farà Jigen Perché Ishiki sopravviverà Ma Jigen, il corpo di Jigen probabilmente no E non sappiamo nemmeno quale destino Attende Sasuke e Naruto Esprimi tramite i commenti le tue opinioni E iscriviti al canale per non perdere I prossimi video dedicati a Boruto Sul sito del NIF Team È possibile trovare la traduzione Dei capitoli pubblicati mensilmente in Giappone In descrizione trovi il link al sito Se quest'opera ti piace Acquisti i volumi di Boruto Già pubblicati in Italia Da Panini Comics Alla fine del capitolo Abbiamo uno sviluppo interessantissimo Boruto riesce ad attivare la sua abilità oculare Per la prima volta nel manga Perché il primo capitolo non lo consideriamo Visto che comunque si tratta di una scena Che avverrà nel futuro Probabilmente si tratta del Jogan Nel manga non l'abbiamo mai visto Nell'anime lo conosciamo E adesso è importante che all'interno del manga Quando Boruto si accorgerà di stare usando il Jogan È importante che non ci venga mostrato Boruto Come se attivasse per la prima volta quest'occhio Perché se facessero questo Rovinerebbero ciò che abbiamo visto nell'anime È come se levassero la canonicità dell'anime Per rendere l'anime canonico Boruto quando attiverà quest'occhio Dovrebbe dire qualcosa Mi è successo di nuovo E come quella volta in passato Qualcosa del genere Comunque ci faccia capire che gli eventi tratti dall'anime Siano accaduti davvero E che quindi siano canonici E sarà interessante anche vedere la reazione di Naruto e Sasuke Quando si renderanno conto che Boruto sia riuscito a sviluppare Una particolare abilità oculare Ma che ruolo potrà avere questa abilità oculare di Boruto Che ci viene mostrata alla fine di questo capitolo ragazzi Che ruolo avrà Ishiki non rappresenta ormai nessuna minaccia Visto che comunque Naruto l'ha ridotto in fin di vita Però sappiamo che Ishiki metterà di nuovo Karma all'interno di Kawaki Boruto non può impedire ciò Perché sappiamo che avverrà attraverso il primo capitolo che già conosciamo Quindi cosa farà Boruto? Probabilmente assisteremo a una sconfitta di Jigen Del corpo di Jigen Perché anche se quello viene distrutto E lui riesce comunque a impiantare Karma Ishiki sopravviverà Però al momento il corpo di Jigen probabilmente quello non sopravviverà Verrà sconfitto Questa abilità oculare potrebbe servire per salvare il padre Naruto? Se no potrebbe mostrare un modo per arrivare alla salvezza di questo personaggio? Non ci resta quindi che attendere il prossimo capitolo per scoprirlo E siamo curiosi di leggerlo Anche perché ragazzi Naruto non può morire in questa condizione Perché sappiamo che Ishiki sopravviverà Quindi se proprio volevano far morire Naruto Che lo facessero morire in una situazione in cui davvero riusciva a sconfiggere il nemico Ma che muoia per un nemico che comunque riesce a sopravvivere E no ragazzi non ci stiamo Quindi dobbiamo vedere come Naruto riuscirà a sopravvivere E con questo è tutto ragazzi Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like Che è importantissimo e serve per supportare il canale Iscrivetevi al canale E seguiteci attivando la campanella Per non perdere nessun video su Boruto Alla prossima ragazzi A presto Alla prossima ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti